Gioao Mario come mai secondo te ha fallito all'Inter? Non vedo un fallimento, sai, ci sono dei momenti in momenti, parliamo di un Kakà che è uscito dal Milan, è andato a Madrid, non ha giocato poco, è un pallone di un pallone d'oro, sai, è la città, il campionato, sono tante cose, a volte, che non so, ti fa cadere un po' il rendimento, non so, penso che ho il tempo lì, lui non si ha trovato bene, però tornato al Benfica ogni partita senza un gol o due, è impressionante.